Salve a tutti, io sono FafuFafuA4 e quest'oggi parleremo del Musasauro. Era vissuta in Triassico, in Argentina era erbivoro pesato a 120 kg ed era lungo 5 metri. Allora, di questi esemplari non ne sono stati ritrovati molti, infatti solo 10 esemplari più delle uova. E hanno trovato il clanio lungo soltanto 3 centimetri, era molto piccolo, però lui era un parasauropode. E dopo praticamente pensavano gli scienziati che quest'animale più era grande e più fosse intelligente. Per questo video è tutto, ci vediamo domani. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale. Ciao ciao! Ciao!